Le anticipazioni del segreto ci raccontano che subito dopo essersi trasferiti a El Aralines racconterà a Bosco che il padre della bambina nata morta era lui e la cosa agiterà molto il buon Castro. Il giovane, quindi, si riavvicinerà molto a Ines e la cosa farà infuriare Amalia che se la prenderà con il povero Beltran. Amalia, quindi, per vendicarsi farà sì che il bambino si punga con una spilla che lascerà incostodita nella sua culla. Ines penserà che la colpa dell'incidente sia la sua per cui presterà la massima attenzione al piccolo. E così la donna si accorgerà che il povero Beltran piange in continuazione soltanto quando è in compagnia della madre. La poverina ne parlerà con gli altri ospiti di El Aral che si prodigheranno per scoprire la verità. Succederà poi che, durante una notte tempestosa, Ines non riuscirà a tornare a casa e si fermerà nel capanno in cui diede alla luce la sua bambina. Bosco si preoccuperà tantissimo per la donna ed uscirà a cercarla. L'uomo alla fine la ritroverà e tra i due ci sarà un lieve riavvicinamento interrotto però da Amalia che si recherà anche l'alcapanno. Successivamente, i due si ritroveranno da soli in soffitta, dove si scambieranno un tenero bacio. Purtroppo però Amalia li vedrà e mediterà di vendicarsi facendo nuovamente del male al piccolo Beltran che intanto sarà lasciato alle amorevoli cure di Rosario. Ines e Bosco, poi, spinti dall'amore, si recheranno nel capanno in cui la donna diede alla luce il figlio e faranno l'amore. Ines chiederà però al ragazzo di non farle alcuna promessa per il futuro ma lui le dirà di voler lasciare per sempre la moglie e di voler vivere la storia con lei alla luce del sole. Se vuoi conoscere sempre le ultime novità iscriviti e lascia un mi piace. Al prossimo video!